Il gruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana ha presentato un'interrogazione, un disegno di legge per riconoscere un contributo ai soggetti affetti da fibromialgia. Questa patologia non è ancora stata inserita nel sistema sanitario tra i livelli essenziali di assistenza. L'inserimento in questa lista, ha detto il capogruppo del Partito Democratico all'Ars, Michele Catanzaro, permetterebbe a tutti i cittadini di ottenere i farmaci e le terapie necessarie attraverso il sistema sanitario pubblico e dunque in modo diffuso e gratuito. Ho presentato insieme con gli altri deputati del gruppo Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana un'interrogazione parlamentare per chiedere al Governo regionale di sollecitare la conclusione del processo di inserimento della sindrome fibromialgica tra i livelli essenziali di assistenza. La fibromialgia è una patologia reumatica extraarticolare riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1992 caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso nonché da profondo affaticamento e da numerose altre manifestazioni cliniche a carico di diversi organi e apparati. Attualmente questa patologia interessa in Italia una fascia di popolazione stimata tra 1,5 e 2 milioni di persone. Nell'interrogazione rivolta al Presidente della Regione Renato Schifani e all'assessore regionale alla salute Giovanna Volo si chiedono anche notizie sull'utilizzo delle somme distribuite lo scorso anno dallo Stato alle regioni per lo studio, la diagnosi e la cura della patologia. In attesa dell'inserimento della fibromialgia fra i livelli essenziali di assistenza, ha concluso Catanzaro, il gruppo PD a Lars ha depositato un disegno di legge per riconoscere attraverso l'istituzione di un fondo regionale da 3 milioni di euro un'indennità una tantum ai cittadini residenti in Sicilia affetti dalla patologia.